Oggi, primo maggio 2014, per la prima volta in piazza siamo scesi come giovani, studenti, precari, disoccupanti di calda e disoccupati. Oggi siamo qui e questa è solo la prima tappa di una lunga mobilitazione che ci porterà all'11 luglio. L'11 luglio a Torino ci sarà il vertice sulla disoccupazione giovanile. Bene, disoccupati, preoccupanti, precari, disoccupanti, andranno a dire che cosa ne pensano, andranno a dire qual è la reale soluzione, dove sono le persone a cui chiedere, quali sono, come risolvere questi problemi. Ci vediamo in piazza all'11.